buongiorno ben ritrovati con podismo atletica dopo un periodo diciamo di assenza siamo tornati torneremo diciamo in maniera diciamo frammentaria nell'arco dell'anno con 1 2 appuntamenti al mese per quanto riguarda il podismo la telega leggera con con me anche moreno sinatti buonasera lui ha detto buongiorno vabbè qui tanto asce sono anche le repliche quindi può darsi una guarda al giorno una sera ecco qui siamo partiti un po da quello che è successo all'inizio dell'anno con la befana campestre campionati diciamo il grand prix e campionati anche prova del campionato csi regionale in cui ha visto la presenza di tantissimi concorrenti moreno diciamo oltre 500 atleti in tutte le varie categorie si infatti sono state tre partenze delle gare adulti e poi tutte le categorie femminili quindi la meno numerosa era quella del femminile però ecco vediamo questa gara amatori e che era era complesso che c'erano complesse anche le donne che non sono tesserati che oppure che sono tesserati fila oppure a csi e ecco questo era un bel gruppo e se si è svolto tutto lì nei campi adiacenti alla polisportiva policiano che è asciutta mentre vedremo fra poco dopo altri campestre che non erano asciutti ecco direi che comunque la formula della befana campestre oramai si è radicata completamente nel diciamo nella mentalità anche degli appassionati di cross è un appuntamento che ormai stagionale tutti gli anni sanno che il 6 di febbraio c'è la 6 gennaio 6 gennaio c'è la campestre a polisciano e quindi poi il percorso è quasi sempre il solito c'è qualche virgola di differenza però ecco speriamo che anzi proviamo anche l'anno prossimo sicuramente sarà un pochino allungato percorso perché abbiamo individuato alcuni alcuni campi agli agenti che sono che sono scelta lavorarci un pochino però ecco sicuramente lo faremo anche lì ecco direi che comunque sia un percorso che è stato anche apprezzato dagli appassionati diciamo delle del cross e anche perché a queste caratteristiche molto particolari di varianti di ritmi e soprattutto anche varianti di percorso quindi questo ha permesso anche a molte persone di utilizzarlo come forma allenante per le per le gare che da lì sarebbero venute per quanto concerne soprattutto la corsa campestre ma c'è da dire questo è un percorso che è visibile tutto è tutto visibile dagli spettatori vedono tutto quello lo svolgimento della gara e non è facile trovare una campestre dove si può vedere tutta ecco fra l'altro questa qui diciamo un pochino in maniera molto ridotta diciamo questa visibilità come campionati italiani di corsa campestre sono disputati a gubbio chiaramente in uno scenario completamente diverso spettacolare però direi che anche questo è una è una delle gare che diciamo ci fosse un pochino diciamo anche di aspetto estetico migliore forse potrebbe essere apprezzato ancora di più ma comunque sia è una gara che viene complessivamente diciamo gradita non ci devono essere grossi numeri altrimenti sarebbe impossibile fare la gara però ecco il percorso che come dicevi te piace abbastanza non è monotono per niente ci sono curve contro curve salite e discese quest'anno non c'era fango quindi c'è stato qualche anno che ci hanno lasciato anche le scappe invece stanno proprio era io corso senza senza scappe chiudate perché era proprio asciuttissima e qui è che abbiamo visto ha avuto la presenza di atleti provenienti da diciamo dalla parte più alta anche della toscana quindi da massa dai grossetano dalla livornese lucchese insomma quindi tante diciamo zone anche della toscana che hanno voluto essere partecipi a questo grand prix che fra l'altro era una prova importante del grand prix e oltretutto diciamo una prova anche importante del erano tre grand prix diciamo inseriti un po su questa su questa gara perché c'era il grand prix nostro e il grand prix della fida la toscana e il grand prix del csi abbiamo visto addirittura lorenzetti ex nazionale di maratona che insieme alla moglie erano presenti qui alla gara di policiano gloria marconi che lei fa cioè lorenzetti ha fatto meno rispetto alla moglie è stato la moglie è stato proprio campionessa anche italiana insomma della maratona sono quindi è stato diciamo fatto risultati di un certo di un certo prestigio comunque anche lorenzetti ha vestito la maglia azzurra insomma ecco anche lui nella maratona e quindi diciamo adesso si è anche lui è un master anzi un veterano quindi metteranno l'idea importante perché poi anche a livello di csi dove lui partecipa costantemente raggiungere risultati positivi ecco qui chiaramente abbiamo fatto una carrellata un po generale per quanto concerne questa gara diciamo le fan a campestre qui siamo passati al settore diciamo dei giovani dove c'erano veramente anche qui tanti partecipanti alla competizione che è stata un po una protagonista per quanto concerne le gare le gare diciamo giovanili anche lo scorso anno insomma si ha vinto il grand prix quest'anno sicuramente è sempre presente quindi sicuramente farà il bis ecco in questo momento diciamo inizialmente era abbastanza nervoso poi dopo si è allargato il tempo addirittura è venuto anche un bel pomeriggio diciamo di sole e quindi tanti partecipanti ma soprattutto anche tante persone a vedere quindi direi che veramente il cross di policiano è stato apprezzato in tutti i sensi che vediamo proprio qui il sole che ha fatto capolino in questa in questa giornata diciamo della che fa una campestre che per certi aspetti mette un po in difficoltà l'organizzazione perché riduce sempre dalle feste l'abbiamo anticipato di mezz'ora quindi alle due erano pronti per partire quindi però questo ha permesso di funzionare meglio di terminare in maniera più rapida anche la competizione stessa no per questo tocca partire presto anche le persone che vengono a gareggiare però ecco si ritrovano di gareggiare con il tempo più migliore insomma nel senso con le temperature più alte perché cioè questo periodo è il freddo quindi se corri verso le due le tre le quattro ancora ecco tanti tanti partecipanti proprio al settore nel settore giovanile fra l'altro era valido anche per l'esordia di cross quest'anno quindi anche a livello locale sono stati presenti molti molti diciamo molti atleti delle rispettive società giovanili provinciali quindi se si appassero anche molti della toscana però come diceva prima da massa ragazzi la massa da portassiavi da calenzano no 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 è una gara che è un po la prima prova diciamo per quanto concerne i campestri per campestri quindi prove proprio molti molti diciamo la la prendono come punto di riferimento e quindi l'apprezzano positivamente poi ecco ci sono questi tratti abbastanza impegnativi di saliscendi che sono allenanti non è monotono per niente questo è un percorso cioè a me personalmente piace tantissimo da è spettacolare per lo spettatore è bellissimo no no anche perché poi come dicevi prima te lo possono vedere tutti dalla diversi angoli della del percorso quindi possono ecco qui vedete proprio tanta gente insomma presente a questa competizione che fa capire il valore anche della befana campeste insomma ecco quindi questo sicuramente è un grande una grande soddisfazione anche per la società polisportiva polisciano le immagini non mi ricordavo c'è un sacco di ragazzi proprio guarda proprio siano tante persone quindi abbiamo detto diciamo che complessivamente oltre 500 atleti quindi questo fa capire che poi i numeri fanno fanno la parte principale insomma ecco che stiamo crescendo come fascia d'età e quindi siamo passati dai settori pulcini e qui siamo già un pochino cominciamo a essere da cadetti quindi da movimenti della corsa si vede che c'è proprio tutta la classe più strutturati quindi già atleti che stanno andando molto forte stanno andando e che veramente alcuni sono atleti che poi nell'arco della anche della stagione hanno dimostrato le loro potenzialità la loro potenza insomma perché sono riusciti poi a vincere i campionati regionali di corsa campesca che vediamo ecco la giada cicerone che invece era un po insordina poi dopo si è rifatta le indoor poi addirittura è riuscita insomma anche nelle campestre nei corsi su strada a rientrare piano piano è arrivata anche nei campionati regionali studenteschi insomma molto bene ecco questo fa capire che diciamo anche lì ci vuole ci vuole una preparazione adeguata qui vediamo ecco sempre nel settore diciamo dei ragazzi queste c'era zanti in testa c'era esatto quindi queste chi ecco per far capire anche anche arezzo era presente era con zanti che in questa occasione dato molto forte poi a livello regionale ha dovuto diciamo lasciare un po il passo a altri concorrenti però sempre nella testa diciamo a livello regionale fra i migliori componenti del della competizione intanto quel fumo che nel frattempo stavano predisponendo anche delle delle ottime diciamo pannini con la salsiccia che effettivamente sono stati andati a ruba sono provvidenziali avevamo comprato un certo numero di salsicce sono mancate proprio perché la gente ha apprezzato molto insomma poi il costo molto contenuto insomma quindi siamo riusciti anche a sopperire sotto questo aspetto diciamo della diciamo anche delle del servizio che abbiamo la gente non aveva mangiato aveva mangiato pochissimo quindi una volta gareggiato molti hanno approfittato di mangiare il panino con la salsiccia e qui intanto vediamo la categoria cadette che sono diversi erano anche di solito insomma si trova sempre pochissimi atleti in queste in questa categoria e invece qui erano molto partecipi e c'erano della provincia quasi tutti lì fuori effettivamente è perché una prova importante perché serve proprio per vedere le condizioni in cui ritrovo in questo momento che questo è al 6 di gennaio a fine gennaio c'erano già i campionati quindi per vedere com'è lo stato di forma dei no no ma è sicuramente per molte società è un punto è un punto fermo diciamo della stagione quello di iniziare il cross e policiano in questo caso qui per alcuni è diventato determinante insomma ecco anche nella prova qui vediamo l'ultimo tratto in questa salitella che effettivamente mette un po ad una prova gli atleti perché ora diciamo che nel tempo un pochino si è smussata i primi anni era abbastanza più era così era più lì c'era una transenna per tirarsi su e quindi questo caso che ecco è diventata molto più facile però ecco direi anche si sente l'ultimo tratto gli ultimi 150 mesi per fare la volata che stai facendo la volata che 10 20 metri di salita se si accusa e poi la divagazione laggiù ma non è non è malvagia insomma ecco qui sono cadetti e allievi mi sembra qui c'erano i cadetti i cadetti e vedete quanta quanti ragazzi presenti addirittura qui sono tutti in fila quindi hanno dovuto rallentare quelli che rimanevano un po dietro poi ovviamente anche qui come tutte le solo cadetti sono e vediamo che erano tanti anche questi concorrenti della categoria cadetti che ovviamente sono i primi soggetti che poi faranno il salto di qualità nel prossimo anno quindi carigeranno nella categoria allievi e lì e cominceranno ad avere ad affrontare diciamo situazioni anche un pochino più complesse per quanto riguarda poi i campionati di società però ecco è una bella squadra diciamo che quest'anno anche a livello di cadetti la toscana si è ben comportata per quanto riguarda le cross e quindi fa ben sperare per il futuro per quanto riguarda anche il mezzo fondo che molto spesso ahimè invece ad arezzo è un pochino è un pochino diciamo modesto quindi ci sono delle eccellenze per quanto concerne le gare dei salti concorsi però meno nel nel mezzo fondo dove invece bisognerebbe cominciare a curare ma è chiaramente è faticoso anche allenarsi diciamo nelle distanze lunghe quindi questo ecco perché forse c'è questa difficoltà ecco però vedete anche nel finale questi allunghi decisi per poter poi riprendere gli atleti che li precedono ecco che vediamo anche l'ancillote che incita poi i suoi atleti che anche lui allena verso la lega futura e qui siamo passati invece all'ultima gara quella non la penultima ecco le donne che sei la questa è la categoria femminile e qui è una gara anche questa che è molto molto quotata direi con la marconi poi c'è la teta del fiorino lì che è andata molto forte che ha vinto tutte le gare escluso quella di buscine che ha vinto la keniana sì 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 in quel caso lì sì però ecco è andata veramente molto molto forte e questo beh la dice lunga insomma ecco su quello che sta succedendo ecco qui vediamo anche la canuta un'altra teletaretina che corre con la tretica tretica castello che veramente che stanno ha fatto un salto di qualità notevole vedendola qui e vedendola un mese dopo anche due mesi dopo è ancora migliorata tantissimo il campestre ha fatto delle bellissime gare eccola qui vediamo che di spalle e qui ecco vediamo lotta serratissima nella testa della corsa fra queste concorrenti che si danno si danno battaglia insomma ecco nella in questa in questa gara che come ripetiamo per molti aspetti è stata una gara che molti hanno apprezzato proprio per per questa variante diciamo che è realizzata all'interno di questo circuito altri hanno cercato di metterci delle cose diciamo anche artificiali questa che è naturale e quindi per questo aspetto sicuramente positiva quello che è avvenuto anche a campionati italiani di gubbio dove ci sono anche lì delle situazioni di salita e discesa che non come qui ma insomma anche lì ci sono lì c'era un problema un problema più di terreno la pioggia soprattutto questo per quanto riguarda la gara del campionato quella in linea che la staffetta invece fu salvata sabato hanno detto bene che la domenica mattina inizia da piovere proprio quando sono iniziate le gare e qui intanto vediamo proprio l'arrivo finale di questa di questa gara veramente gara combattutissima che nel finale la marconi gloria ha dovuto scedere diciamo che lei è più giovane che la gloria anche lei ha superato 50 quindi e qui siamo alla gara invece maschile anche questa che è molto quotata direi una gara battagliata dominata da due atleti dell'atletica Livorno e anche qui ecco le storie puletti che sono sono andate molto forti hanno fatto una gara sono sono promesse sono promesse quindi ancora sono giovanissimi e qui diciamo che sono andati anche molto bene anche gli atleti diciamo di casa chiamiamolo così quindi si è rinforzata la polisportiva di Policiano con la presenza di Graziani Vannuccini quest'anno quindi che hanno centrato l'obiettivo ancora una volta dei campionati italiani ecco Vannuccini tra l'altro è andato molto bene in questa circostanza migliorato tantissimo poi Nivola che parte sempre Sorgnone poi dopo nel finale diciamo recupera Tartaglini insomma quindi tutti tutti i ragazzi che poi ecco Malvin Mettius che direi poi il giovane Mbarek alla prima prova diciamo di cross e juniores quindi è uno diciamo degli atleti toscani maggiormente accreditati insomma ecco quindi diciamo che può ancora crescere tantissimo Mbarek e quindi vediamo poi Graziani Emanuele che ahimè diciamo forse nella gara dove noi speravamo di vincere i campionati toscani di staffette ha un pochino se sbagliato probabilmente la composizione in quel caso lì Alessandro Annetti poteva essere l'artefice principale per tentare diciamo di raggiungere non dico forse la vittoria ma insomma il secondo posto senz'altro Aveva avuto dei problemi in settimana Graziani quindi la domenica non era nelle condizioni giuste per poter fare una bella gara Poi c'è stato un intervento da parte della finanzata quindi ecco c'è un po' di problemi anche a livello mentale che ovviamente anche queste cose qui non soltanto il fisico ma anche a livello mentale bisogna essere diciamo brillanti e qui vediamo proprio la corsa fluida di questi due atleti i protagonisti che sono andati veramente molto forti poi Farade qui vediamo l'altro della Sicilio Rosso di Firenze e poi vediamo ecco Niola che Sognone poi nel tempo comincerà a recuperare quindi è andato molto forte è andato un diesel diciamo così Niola poi queste distanze particolarmente impegnative diciamo per lui si trovano a suo agio vediamo Cannucci poi vediamo Vannuccini ecco Poi Graziani anche Graziani era partito forte che è uno che parte fortissimo poi Eh però quest'anno diciamo l'anno precedente è stato molto bravo Ha fatto un finale di stagione e ha fatto bellissimo e adesso anche due domeniche fa a Strasimeno ha fatto una bella gara Sì sì no apposta quindi ecco sono sono atleti che sicuramente potranno dire loro nel proseguo della stagione che diciamo è iniziata ma è iniziata un pochino Intanto vediamo anche Fantoni Davide che invece lui controlla la situazione della retrovia quindi verifica se tutto procede regolarmente insieme a Bigiarini Pietro Eccoli qua intanto gli atleti che stanno sopraggiungendo diciamo questa fase finale della corsa campestre della Befana campestre qui si cominciava ad essere un po' al tramonto e quindi diciamo che sono state due ore e mezzo di corsa ininterrotte con tanti partecipanti quindi come dicevamo un grande successo e soddisfazione per quello che è stato realizzato diciamo in questa in questa gara che diciamo la Befana campestre ormai comincia ad essere oltre 20 oltre 30 anni diciamo oltre 30 anni anche questa diciamo della sua nascita inventata per caso poi non sapevamo come fare la Befana quindi si utilizzò questa Befana campestre utilizzando questa struttura vicino alla diciamo questi terreni vicino alla struttura della Polisportiva Polisciano ecco qui vediamo anche Pietro Verini un altro degli atleti ancora brillante ecco qui siamo passati invece a una giornata particolarmente vedete molto diciamo disturbata proprio dalla neve dal freddo e dalla pioggia e tutto quello che poteva esserci veramente grandi difficoltà sia a livello organizzativo ma anche per gli atleti stessi che poi hanno dovuto affrontare una giornata veramente impegnativa qui siamo alla seconda prova del campionato regionale di corsa campestre a Pietraviva e qui vedete gli atleti che stanno ecco questa fase diciamo di salita e discesa che viene utilizzata per la competizione ma vedete già molti perdono addirittura il pettorale in questo frangente ecco qui proprio sono le fasi diciamo interlocutorie prima della gara degli assoluti è qui una giornata direi Moreno da dimenticare come tempo freddo vento ma soprattutto anche da un punto di vista proprio anche logistico grandissime difficoltà per ecco qui vediamo l'atleta della futura che va a vincere nel campo degli allievi dicevamo che è molto molto difficile questa questa gara proprio anche per la logistica che hanno dovuto creare a volte non non perfetta diciamo così purtroppo perché perché a volte il ristoro te caldo che era posizionato in posizione opposta alla zona del traguardo ma in condizioni di freddo così bisognava che fosse quasi immediata insomma quindi veramente grandi difficoltà quello è un ambiente che funziona quando è tempo bello quando è tempo brutto sicuramente è impossibile impossibile per molte strutture ma in questo caso qui è ancora più difficile e quindi diventa difficoltoso diciamo anche realizzare una competizione normale le difficoltà anche per i giudici le difficoltà per un po' per i concorrenti nel ritrigno opposto a questo avevano vento e neve e acqua contro quindi era circa 7-800 metri vedete qui la neve che sta veramente perversando e qui c'è la gara femminile con chiaramente le altre protagoniste come dicevamo a livello delle c'è la keniana che andrà a vincere questa gara poi la toscana di colore del fiorino che però seconda senza grandi difficoltà è l'orecchiella che non ha partecipato a campionale italiani perché è tornata in Kenya perché era incinta quindi questi qui viaggiano senza problemi anche raggiungendo risultati importanti lo stesso la difficoltà sia vediamo la mugno lì ecco che supera poi in questa salita difficoltà proprio di appoggi e anche queste piccole repentine salite che mettono a dura difficoltà estrema lele le concorrenti insomma ecco quindi veramente una campestre molto molto difficile qui la vediamo proprio giungere al traguardo effettivamente temperature basse e quindi grande grande difficoltà ecco vediamo gli arrivi di questi atleti eccoli qua che stanno completando la loro prova direi con grande sofferenza ecco questa almeno la l'impressione che si vede e qui siamo alla gara invece maschile con il calile subito portarsi al comando addirittura con davanti agli atleti molto più accreditati che sono presenti qui però all'inizio ha voluto fare una gara di attacco come sua consuetudine quindi non demorde mai non demorde e poi gli altri a seguire un pochino più distanziati anche dei nostri però ecco direi un ottimo risultato da parte dei portacolori della polisportiva di polisciano che poi hanno acquisito con giusta causa il diritto a partecipare a campionati italiani quindi e per un soffio non rispetto all'anno scorso siamo arrivati i quarti l'anno scorso eravamo terzi quindi l'anno scorso del paio quest'anno quarto la presenza del keniano chiaramente ci ha condizionato perché poi abbiamo recuperato la posizione del quarto posto l'abbiamo recuperata diciamo eravamo terzi qualcuno ha lasciato la scarpola che vediamo i vari ecco qui vediamo che attivino la cia al secondo passaggio si avvicina al calile quindi la testa un pochino più alta delle delle percorso ma è andato bene molto bene satigliano anche metrius un altro fratello di malvi malvi si che è andato molto molto forte una giornata in questa maniera grandi difficoltà un po per tutti vedete anche che grintosissimi graziani annetti tartaglini sono utili poi direi ecco uno che è andato molto forte cardelli giuseppe è stato diciamo un pochino il protagonista ormai diciamo il personaggio sicuro della polisportiva di policiano che stanno tornando con noi siamo a nivola sono due sicuri che sono sono stati veramente costanti nella loro conduzione di gara ma tutto diciamo questo prima questa prima parte dell'anno veramente impressionante intanto vediamo che gli atleti chiaramente portacolori delle varie società rappresentate da questi atleti dell'africa prendono il volo nonostante le condizioni meteo non favoribili alle loro caratteristiche sicuramente abituati a correre sempre nel caldo eccetera trovare una giornata così tempestosa così fredda veramente è impressionante però ecco le immagini che vediamo sono molto suggestive perché fanno capire veramente le difficoltà le la diciamo la la particolarità di questa di questa gara con neve ghiaccio freddo vento ma soprattutto direi il vento vento freddo che ha messo a perché era vento che poi ti portava addosso l'acqua e la neve quindi ti freddava ti gelava proprio no che poi alla fine della gara tutti cercano di andare in macchina e riscaldarsi ma trascorrevano decine di minuti prima di ritornare a una temperatura diciamo normale perché veramente c'erano grandissime difficoltà qui vediamo sempre questi atleti che nella discesa c'era anche il rischio diciamo di scivolare che invece poi molti l'hanno superata regolarmente che vediamo ecco altri passaggi anche di attilio nio la prima questa salita poi cannucci che il calile che perde qualche metro però mantiene sempre una posizione di tutto rispetto avuto costante ha avuto la testa di arrivare perché qualche volta quando queste condizioni si ritira abbiamo visto alessandro annetti e cardelli che sono andati diciamo molto molto bene uno dietro l'altro che intanto vediamo l'arrivo dei primi dei primi partecipanti a questa gara che è veramente stata una gara tiratissima vedete proprio ancora altri atleti che si susseguono in questa in questa direi gara che ha visto le caratteristiche di ognuno dei partecipanti superare se stesso perché per correre in queste condizioni veramente bisogna avere una forza mentale importante vediamo midar che molto spesso va a vincere le gare qui però è arrivato un pochino in gesto è che è andato molto forte anche altri altri concorrenti che gli anni passati erano protagonista della gara stanno ritornando vediamo che a tiglioniola giungere anche lui al traguardo qui siamo invece ai campionati italiani di staffette che sono disputate il giorno precedente dei campionati individuali e qui intanto vediamo la partenza con cardelli primo frazionista ovviamente la polisportiva polisciano era presente con due staffette inizialmente erano previste quattro poi due non sono state realizzate perché mancavano componenti e diciamo abbiamo cercato di fare due squadre competitive per poter raggiungere obiettivi importanti insomma descende entrare almeno nel podio e invece è andata ancora ancora più ancora meglio insomma voglio dire sapevamo che eravamo competitivi al massimo quindi e dopo si è visto in realtà si è visto è stata quella m50 è stata seguita un pochino meno perché c'era la m35 che era era davanti che quindi abbiamo visto un po meno è seguito con la telecamera tutto a cui cardelli ha fatto una bellissima frazione è partito forte è andato forte è andato quindi mantenendo diciamo la testa per un certo periodo poi dopo ha perso qualche metro però ecco sapevamo che noi avevamo una squadra che poteva competere e quindi vedremo un po quello che succederà però ecco lo scenario che era lì il giorno precedente non aveva piovuto quindi si correva benissimo un po di vento però niente di particolare mentre il giorno successivo sarebbe stata una giornata campale che neanche questa che pioggia e poi scivolate persone che sono cascate insomma quindi è successo di tutto di più qui intanto vediamo anche stefano sinatti che probabilmente potevano anche loro competere a vincere un altro titolo quindi nel m35 siamo riusciti in questa impresa negli m50 invece secondi per poco intanto vediamo ecco cardelli che ovviamente ha fatto una gara direi eccezionale proprio come dicevamo prima grintosissimo come soggetto quindi il personaggio che non demorde mai mantiene sempre una posizione di prestigio che vediamo leonardo fatichenti ritornato alle gare dopo la prima gara rifatto dopo tre quattro mesi quindi si è presentato direttamente a campione italiani quindi con qualche incertezza che potevamo anche avere e che invece ha dimostrato con gli allenamenti dei settimane precedenti che poteva senz'altro dare il meglio di se stesso e quindi cercato di non diciamo di non perdere più di tanto come dalla testa della corsa quindi quei metri che potevano essere diciamo importanti da poter recuperare gli altri due componenti perché poi dopo avevamo vannuccini e niola quindi si spensava di fare vediamo anche renzetti anche lui era stato un pochino alcuni alcuni mesi anche lui assente ripartito nella gara dei m50 quindi diciamo che si è cercato di dare il massimo di se stesso qui vediamo fatichenti con lo stimolo di cardelli dall'altra parte per cercare di non perdere metri che sono importanti perché le staffette sono determinanti poi i vari frazionisti e qui vediamo anche renzetti anche lui va a completare la sua gara darà il cambio a questo punto che a soldini e qui vediamo ecco che la testa della corsa era un gruppo di barletta molto forte che comunque la testa era una m40 la categoria m40 sono di milano la battaglia era con quelli di bisceglie che erano secondi loro e noi a questo punto Artiglionia l'ha recuperato nell'ultima frazione qui vediamo soldini che anche lui ha fatto una bellissima frazione ecco qui niola nell'ultima frazione che è partito non guardando in faccia ha superato subito quelli di barletta proprio per cercare di non avere contrasti quindi non guardava neanche dietro lui cercava di andare avanti sapendo che il concorrente che aveva dietro era della sua categoria quindi m35 ed ha fatto una prestazione direi importante poi doveva fare 300 metri in più rispetto agli altri pertanto è toccata lui insomma questa l'onere di fare il percorso di lungo di portare e anche di arrivare e anche Basile ha fatto un'altra gara direi eccezionale per quanto riguarda l'ultima frazione che ha permesso alla squadra degli m50 di ottenere il secondo posto in questo campionato italiano quindi direi un primo in secondo posto importanti che beh da da stimolo diciamo anche a questa società e qui vediamo proprio nel gradino più alto i componenti della polisportiva di Policiano che indossano una maglia di campione italiano e di medaglia e poi la coppa come campione italiano quindi veramente un grande un grande onore un grande successo ma soprattutto la soddisfazione per questi ragazzi che veramente ce l'hanno messo tutti vedete proprio il sorriso la soddisfazione importante per loro quindi un grande successo e poi la squadra invece seconda classificata con Renzetti, Basile, Sinatti e Soltini quindi veramente un grande applauso per questi ecco siamo passati alla Strasimeno edizione numero 18 2018 bagnato anche qui situazioni climatiche direi avverse situazioni veramente particolari diciamo a bici alla mattina qualche pioggia sembrava quasi che forse non piovesse ma poi alla fine invece la pioggia non ha tenuto fuori i concorrenti pensate 1600 atleti sono giunti alla traguardo 2000 gli iscritti quasi 2000 e sono partiti velocissimi questi concorrenti che in cui c'erano protagonisti anche della scorsa edizione e poi ovviamente con le varie distanze le varie frazioni che erano state messe in piedi come ogni anno quella di 10, di 21, di 34, di 42 e 58 quindi veramente alla portata un po' di tutti più c'erano anche una camminata che però camminata con le condizioni così non particolarmente diciamo partecipata chiamavolo così ecco quindi è stata una cosa un po' che non vi dico vedete la lunga fila di atleti che hanno preso parte a questa questa competizione in cui anche la polisportiva è presente con oltre 50 atleti quindi veramente una delle società anzi la società più numerosa quest'anno c'è da dire che abbiamo fatto in tutte le distanze avevamo qualcuno a differenza di qualche altro anno quest'anno proprio abbiamo fatto coperto tutte le distanze e direi che i risultati sono venuti un po' a tutti i livelli quindi veramente va dato atto anche ai nostri concorrenti diciamo ai nostri partecipanti della società che hanno ottenuto risultati importanti ecco qui vediamo ancora la lunga schiera degli atleti che come dicevamo circa 2.000 quindi sono sempre tanti sono molti vedete vestiti in maniera proprio anti pioggia anti vento e qui vediamo la testa della corsa con Attilio Niola cercare di staccare subito gli avversari vedete poi accanto lui Graziani e dietro l'altro diciamo atleta questo che è un francese che è riuscito a poi nella gara dei 10 km ad allungare proprio nel finale e quindi a crearci qualche problema sì perché nei primi 10 assoluti ce n'erano 6 all'Unione Polisportiva Policiana gli altri sono divisi da altre società vediamo comunque il ritmo impresso dai battistrada con Alessandro Annetti è andato molto anche qui ecco che vediamo proprio nella salitella quella salitella che è quell'avvallamento iniziale che però vede la lunga striscia dei partecipanti a questa gara quindi Moreno direi così è anche una gara sì qui era stato percorso circa 700 metri però ecco c'è già proprio la fila indiana e il gruppo verrà dopo perché all'inizio c'è più selezione quindi sono tutti in fila indiana mentre fra un paio di minuti sicuramente sarà il gruppo più compatto e qui vediamo Basile con la fascia che lui ha optato per la 21 è arrivato secondo di categoria mentre c'è da dire una 42 ha vinto Vittarelli Stefano della Polisportiva Policiano avevamo anche due nella 58 km che di Miceli e di Porto comunque sono portati abbastanza bene no no dico ci vuole coraggio e dunque la 58 erano circa 400 iscritti quindi dico sono tanti quelli che non la pensano come me e qui vediamo proprio la distribuzione dei vari partecipanti con i vari pettorali quelli dal 1 al 1000 sono quelli che fanno la 58 poi dal 1 al 2000 sono quelli che fanno la 10 poi dal 2000 la 21 3.000 la 34 4.000 la 42 quindi questa è la disposizione per quanto riguarda invece dall'1 in poi c'era la 58 e qui intanto stiamo recuperando un po' il gruppetto stiamo risalendo in maniera graduale ma direi una giornata anche questa qui molto molto fredda si vede dall'abbigliamento che utilizzano i corridori quindi oltre la pioggia ovviamente è il freddo il freddo è stato diciamo il protagonista della gara perché poi quando piove quando c'è vento e quindi crea dei grandi problemi insomma ecco qui vediamo anche i concorrenti che ognuno di loro ovviamente darà il suo ecco dicevamo che qui l'organizzazione da parte di Farano e soprattutto del gruppo sportivo Filippide è stato diciamo grande si c'è anche un grande movimento di mezzi di pulmani e quindi poi quando sono queste situazioni di tempo così instabile chiaramente le creano maggiori difficoltà anche dal punto di vista organizzativo si si anche se è organizzatissimo è sempre più difficile certo e vedevamo proprio Farano gli ultimi momenti prima della partenza prodigiarci per cercare di sapere se tutto era a posto perché ovviamente le difficoltà aumentano con le condizioni meteo e molti a volte non si rendono conto che è difficile più del previsto quando il tempo è cattivo a tutti si chiede maggiore organizzazione maggiore efficienza però dopo chi c'è ci prova ma non è detto che tutto riesca nel miglior modo possibile quindi bisogna anche avere un po' di pazienza nel fare questo intanto vediamo che stiamo risalendo un po' il gruppo vediamo Sanel Nicoletta che direi sta cambiando totalmente il suo modo di diciamo di affrontare le gare è sempre molto forte l'interno Buccilli è l'altro atleta del Cliva che è sempre stato fra i protagonisti subito in testa pensate insieme a Mori Lorenzo dietro che faceva la 10 km quindi Buccilli a testa bassa in perterrito addirittura abbiamo fatto un'intervista prima della gara era diciamo determinato per cercare di ottenere un risultato importante qui intanto vediamo il gruppetto invece con Vannuccini, Annetti e Mbarec è andato molto forte anche Mbarec quindi su questa gara qui Giuseppe Cardelli come dicevamo molto costante insieme a Malvin Metius e qui si sta risalendo verso la testa della corsa già molto frazionata la spinta di questo francese Cirille Viri e qui vediamo Nio Lattiglio e poi Graziano Emanuele ecco qui vediamo questo francese che poi chiediamo il nome non sapevamo che fosse poi ci diceva che era francese quindi Viri Cirille che è riuscito veramente a fare anche un risultato importante vedete qui la pioggia la pioggia battente che andava contro i concorrenti quindi veramente difficoltà ancora maggiori per gli atleti qui intanto vediamo l'atleta che invece faceva la 21 poi dopo ne parleremo ecco intanto gli altri che stanno inseguendo a breve e qui sempre Buccilli vedete con il petrolale numero uno che è sempre in testa addirittura nei primi posti cioè quindi il ritmo impresso da questo atleta è fortissimo cioè è un ritmo forzennato proprio voleva battere il record dello scorso anno ma le condizioni metteranno poi lo vedremo sicuramente lo mettono in grande difficoltà e vediamo anche Cliva che anche lui benché abituato a temperature molto più basse accusa e qui vediamo questo atleta francese che sta andando molto forte il ritmo ci sembra molto molto buono si è molto sciolto poi si è abbastanza elastico e quindi va a vincere nettamente vediamo proprio l'arrivo di questo concorrente francese poi alle sue spalle lotta fra Graziani e Niola quindi vediamo che tra qualche istante ecco era Graziani e poi Attilio e Niola che aveva avuto qualche disturbo quindi qualche problemino proprio però molto bene diciamo ecco qui vediamo i primi tre concorrenti che si salutano proprio li vediamo tutti abbastanza provati però soddisfatti e poi vediamo anche Malvin Matius raggiungere molto bene direi che qui ecco vediamo Giuseppe Cardelli poi vediamo invece l'atleta quella in maglia bianca e nera che dovrà fare la 21 e quindi questo poi ne parleremo questo dovrà proseguire vedete il 2294 quindi andrà nella seconda tornata poi vediamo Alessandra Netti quindi veramente un'altra battaglia tutti i polisportiva polisciano poi in bare che è andato molto bene e poi i vannuccini quindi veramente una grande performance da parte degli atleti della polisportiva polisciano noi siamo sempre più competitivi sulle gare più brevi ecco ecco qui vediamo Merluzzo abbiamo visto intanto transitare poi abbiamo visto ecco per quanto riguarda l'atleta diciamo invece che è transitare ora per la 21 ma ora aspettiamo l'arrivo delle donne proprio in volata nel finale ed è Saranel Nicoletta che batte la Volpi Francesca quindi veramente grande lotta anche queste due gare è andata molto bene qui direi è andata molto bene anche la nostra quarta atleta che è Mariottini Silvia mentre intanto vediamo la Tamburi che invece in perterrita non demorde fa la 58 ma addirittura molto bene qui intanto vediamo la Francesca Silvia 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 Mariottini e qui vediamo Scaglia che invece stiamo recuperando anche la Francesca Varneschi anche la Varneschi anche lei chiaramente è seconda in questo caso qui davanti alla Garinei quindi è un'altra atleta che qui siamo sulla salita di Punta Bella ecco c'è la Volpi abbiamo visto lì e questo sempre vediamo la Tamburi un passo molto generalmente vedete alza pochissimo le ginocchia proprio perché deve sprecare meno energie possibili per quanto riguarda la gara di 58 km quindi intanto una discesa che può recuperare poi una piccola salitella e poi entriamo in un percorso direi non particolarmente positivo per quanto riguarda coloro che devono fare la mezza maratona quindi un percorso sterrato che mette un po' a dura prova gli atleti ma soprattutto anche gli appoggi voglio vedere perché l'anno scorso ho fatto la mezza e era tutta asfaltata e quest'anno hanno fatto questa divagazione per problemi diciamo di traffico però effettivamente ha perso un po' il valore della diciamo della competizione intanto vediamo Sordini Aldo un altro che insieme a Basile hanno fatto la gara della 21 qui vediamo proprio la Garinei la Garinei Paola sempre molto forte che va a vincere chiaramente il protagonista nella 21 km e qui ancora molto frastagliato molto diciamo frazionato il gruppo degli inseguitori ecco qui vediamo che stanno entrando qui Banelli è andato molto forte è andato direi che Luca Banelli giovane ragazzo e qui vediamo Basile e sono entrati nello sterrato qui vediamo proprio la parte diciamo di tratto che era chiaramente cosparso di pozze quindi metteva un po' dovevano fare un po' zig zag gli atleti per poter diciamo anche a volte evitare pozze particolari ecco vedete che questi appoggi è una strada bianca però un po' isolata quindi forse sotto questo aspetto qui faranno dovrà ripensare un po' anche a un percorso più più diciamo più vivace tutti gli anni più verrà quindi sicuramente non lo so di Petrillo abbiamo visto poi Cliva e qui stiamo ritornando a Castiglion del Lago questo è Bruzzone a Passignano scusate e qui Michele Bruzzone di Genova che è protagonista ma addirittura vedete è subito in testa neanche al ventesimo chilometro Buccilli che quindi ha preso decisamente il comando senza guardare in faccia nessuno quindi pensate un po' quello che ha fatto questo questo atleta che vediamo Bruzzone che non è soddisfatto della sua prova perché è uno 16 e 30 quindi non è non è una prova importante poi Cliva che è distaccato di circa già un paio di minuti dalla testa della corsa insomma quindi sì ma quelli che fanno 58 sono insieme a quelli che fanno la 21 insomma lo dica vanno forti e poi vediamo Merluzzo Merluzzo che arriva secondo atleta di casa diciamo così e poi Daniele Bianchini di Lama questo che è il terzo il terzo atleta ma non è questo qui quello faceva la 34 lo vediamo un po' eccolo qua che giunge al terzo posto poi qui abbiamo visto ora vedremo anche la vincitrice che è Paolo Agarinetti dell'Avisi di Perugia sulla Barneschi Francesca dell'Atleta di Casestini e Darina Krausova del club Emilia mentre nei veterani Alberto di Petrillo che è arrivato dell'Atleta di Caminci sugli artini della sportiva Policiano Salvatore Basili secondo e Aldo Soldini terzo mentre nella categoria d'argento Gianmarco Scaglia è giunto secondo quindi qui vediamo i vari passaggi dei vari concorrenti ma sempre sotto una pioggia incessante e soprattutto temperature fredde ecco in questo caso qui hanno trovato hanno trovato diciamo gli spogliatori un po' distanti l'acqua non calda insomma ecco queste difficoltà che sono purtroppo subentrate in questa giornata diciamo brutta da un punto di vista medico quindi è chiaro che dopo si acquiscono sempre tutte queste problematiche intanto qui prosegue la gara per quanto riguarda gli atleti che faranno la 34 la 42 la 50 la 58 vediamo la Tamburi addirittura seconda in questo caso qui a pochissima distanza da quelle che la precedono che faranno la 34 ma già di stacchi eccezionali e qui vediamo Buccilli alla 34 pensate Buccilli alla 34 aveva circa una bellezza di 10 minuti nei confronti di Cliva quindi c'era la 34 quando mancavano Cliva 24 mentre la 34 qui va a vincere Morini Federico della Tiferno Runner che ha richiarato la sua soddisfazione proprio in quanto due anni prima in questo periodo era in una sedia a rotelle quindi grande soddisfazione mentre in quella femminile Pina Dejana di Aspabastia che va a vincere mentre ecco mentre poi seguono tutti tutti gli altri qui vediamo ancora altri concorrenti che proseguono nella gara anche qui grande difficoltà per poter diciamo anche fermarsi trovare un riparo ovviamente le difficoltà aumentano quando c'è tempo cattivo ci trova una difficoltà qui la seconda è arrivata la Martinelli la Martinelli Emanuela della Tredica Sestini distaccata moltissimo dalla dalla battistrada quindi questo per far capire diciamo proprio i distacchi che sono veramente importanti ecco che poi ci sono altri concorrenti che arrivano però abbastanza soddisfatti ecco qui vediamo Stefano Bettarelli che invece doveva essere per la 42 è in testa per il momento e quindi ancora mancano circa 8 km mentre vediamo che arriva invece Lorenzo Bernini in questa in questa gara vediamo comunque soddisfatti ma al tempo stesso 34 sono 34 poi con le condizioni così che è una nuova posta quindi qui vediamo proprio le difficoltà maggiori qui vediamo la Tamburi che ovviamente transita in testa alla per la 58 quindi lei è solitaria in questo questo frangente e qui vediamo ecco la la prima delle donne in questo caso abbiamo detto è Diana Pina della Sfabastia qui invece vediamo il passaggio intanto questi sono della 58 che stanno transitando addirittura il nostro diciamo per poter raggiungere i 42 non abbiamo potuto vedere i primi per capire quanto erano distanziati i primi con gli altri qui vediamo invece l'arrivo di Stefano Bettarelli che riesce a mantenere la testa della corsa su Peparini della Polisportiva Chianciano che sarà secondo al secondo posto quindi veramente è un grande risultato non si aspettava neanche lui questo risultato importante Stefano Bettarelli che è migliorato anche come impostazione di corsa a forza di correre piano piano comunque è uno che predilige le gare lunghe dalle mezze alle maratone quindi e qui vediamo invece Peparini che anche lui è andato molto bene anche in questa in questa competizione e stiamo risalendo invece la testa della corsa con Cliva chiaramente gli stacchi sono abissali in questo caso e andiamo proprio a colmare andare verso la testa della corsa con Cliva che aveva il suo pasto ma è qui era già staccato di circa 15 minuti abbondanti dalla testa della corsa quindi sembra impossibile ormai raggiungere il battistrada quindi Buccilli saldamente al comando e gli stacchi anche dietro di lui sono veramente importanti pertanto la situazione sembrava ormai acquisita ma sappiamo benissimo che una gara di 58 chilometri può capitare sempre può capitare tutto e qui vediamo il passo molto fluido da parte delle rispetto a Cliva questo è il passo più più fluido molto più dinamico insomma Carmine Buccilli che sembra ormai vincitore oltre che vincitore ma anche c'è un passo da lunghe distanze mentre Cliva c'è la faccata più lunga quindi ecco qui vediamo un momento di difficoltà si ferma in questo istante poi dopo viene sollecitato riparte sembrava che si fermasse mancavano esattamente qui cinque chilometri quattro cinque chilometri alla conclusione e quindi veramente una crisi importante proprio dovuta al freddo dovuta alla stanchezza a livello mentale e riparte in maniera graduale addirittura vediamo che il ritmo sembra adesso è ripreso però non è più quel ritmo che avevamo visto qualche istante prima proprio dovuto a questa difficoltà che ha incontrato l'atleta battistrale di questa gara così le frequenze sono che va che sta bene insomma però vediamo vediamo anche questo passo è molto molto allentato eccetera certo che il freddo il vento poi probabilmente come dicevamo prima e poi anche la stanchezza muscolare insomma ci sono tanti tanti fattori che possono contribuire al peggioramento fra l'altro noi l'avevamo lasciato poi qui quando mancavano due chilometri alla conclusione prendendo una scorciatore per arrivare sul traguardo qui lo vediamo laggiù in fondo al rettilineo in grande difficoltà addirittura sappiamo poi che nel tratto finale in salita si è anche fermato è andato di passo e qui arriva al traguardo non è neanche in grado di commentare nulla proprio perché era completamente in crisi quindi però grande soddisfazione soprattutto direi un grande un grande applauso per questo personaggio che ha impiegato tre ore e trentacinque minuti insomma pensate per fare cinquantotto chilometri quando molti per fare poco più trenta chilometri molti fanno fanno molte trenta chilometri ecco lo vediamo proprio in grande difficoltà ma grande difficoltà direi per tutti gli atleti anche per cliva che ormai come dicevamo abituato a questa temperatura queste situazioni un pochino forse più inclementi arriva in fondo anche lui molto provato 12 minuti più tardi quindi vedete 12 minuti 12 minuti ma è soddisfatto però sicuramente veramente stanchissimi questi questi ragazzi che poi arrivano alla traguardo in questa maniera quindi questo veramente importante questa cosa poi al terzo posto è scarabelli davide 17 minuti il suo distacco di reggio emilia questo qui quindi vediamo giungere traguardo però soddisfatto anche lui però vedete già i distacchi sono veramente abissali e purtroppo ha perso anche un po di pubblico nel traguardo proprio dovuta alle caratteristiche del tempo quindi la gente non è potuta essere lì come come invece solitamente si conviene diciamo per una competizione di questo livello ma è quando le condizioni meteo non sono non sono buone senz'altro crea delle difficoltà e fra non molto dovremmo vedere anche l'arrivo della prima della prima donna mi sembra arrivata settima ottima assoluta come è arrivata decima assoluta che è silvia tamburi della visita per usa con il tempo di quattro ore e diciotto che ha avvissato il successo lo scorso anno quindi direi un grande risultato anche per lei anche considerando che ha fatto la gara quasi tutta da sola insomma quindi veramente e poi sappiamo anche recentemente ha vinto anche un'altra mezza maratona sempre nel lumbia di maratona cioè fa tutte queste gare molto lunghe non so fino a che punto potrà avere diciamo una resistenza così costante perché questa sarebbe un atleta che potrebbe essere potenzialmente molto forte ancora giovane potrebbe fare vedi dal passo è un passo molto non alza le ginocchia quindi è abituata a fare distanze lunghe però anche questa dopo è una cosa che se non cambi le variazioni di ritmo diventa impossibile comunque un applauso anche per lei perché finalmente quattro ore di forza è un grande grande risultato quindi grande risultato ecco c'è la gatto vigio simona che incontro insieme sì e poi la seconda classificata è la giapponese delle sonne dai del mugello e terza la chiara milanesi di bergamo noi ci congeliamo ovviamente l'appuntamento sarà per il 18 aprile con la prossima le prossime diciamo manifestazioni che saranno la camminata della valdichiana e la parco corsa buona serata a tutti